Grande accoglienza ed emozione per Catena Fiorello, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva, sorella di Rosario e Beppe Fiorello, rispettivamente showman e attore, che domenica 19 febbraio ha incontrato a Caltanissetta i lettori e firmato le copie del suo nuovo romanzo Ciatuzzo. Ciatuzzo parla di vari tipi di separazione, separazione dovuta a un avvio fisico, la morte della mamma del protagonista, quando lui ha 9 anni e si chiama Nuzzo, e poi un'altra separazione che avviene quando lui un anno e mezzo dopo ha circa 10-10 anni e mezzo e deve raggiungere il padre in Belgio perché ormai in Sicilia non può più rimanere con i nonni e quindi deve andare lì, da un'altra parte, lontano dalla sua terra. I temi della separazione e lontananza sono spesso presenti nei libri della Fiorello. Il comune denominatore è delle separazioni, della lontananza, che potremmo anche chiamare emigrazione. Chiunque si trovi nella condizione di emigrare deve lasciare un posto a cui è legato e deve affrontare l'ignoto, e non è facile. Altro tema sempre presente è quello della donna. Per questo motivo dal 2020 firma i suoi romanzi, Catena, Fiorello, Galeano. Galeano è il cognome della madre. Parlo tanto di donne, di tematiche legate al mondo femminile, che poi però è anche quello maschile, e quindi mi sembrava giusto proprio omaggiare la figura femminile per eccellenza della mia vita, mia madre. L'autrice ha già in cantiere un nuovo romanzo. Sicuramente il nuovo romanzo che pubblicherò sarà il terzo volume della saga delle signore di Montepepe, ovvero le signore degli arancini, dei cannoli. Questa volta le ritroviamo con un'altra specialità della gastronomia o della pasticceria, non si sa, siciliana. Potrebbe essere la caponata, potrebbe essere la granita, ma poi noi abbiamo talmente tante specialità che questa saga potrebbe non finire mai.